Ciao, sono Gerardo Patern ed è con piacere che ti annuncio che stiamo lavorando alla realizzazione di una nuova edizione di Sinergie, l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi. Quest'anno il claim sarà Vision, quindi visione, perché in tempi di incertezza abbiamo bisogno di capire da che parte guardare, che direzione far apprendere alle nostre carriere immobiliari e alle nostre imprese. Purtroppo non avremmo, come potrei immaginare, una platea fisica, ma location fisica sì, con speaker in persona. Stiamo puntando su una tecnologia all'avanguardia che ti permetta di godere di tutti i contenuti in tempo reale, quindi in diretta, di poter partecipare agli instant poll, di poter porre le tue domande ai relatori attraverso delle chat interattive. Insomma, cercheremo di non farti mancare nulla e di in qualche modo riprodurre la vicinanza con i relatori. I blocchi di partenza saranno garantiti da due speaker outsider, quindi ci parleranno di tecnologia, di comunicazione, di come stanno cambiando le nostre abitudini, come dovremo cambiare anche il nostro modo di fare impresa, quindi capire in che direzione, insomma, rimodulare il nostro sguardo e la nostra rotta. Non mancheranno ovviamente i tanti attori importanti della mediazione, quindi dai portali alle reti, alla tecnologia, ai modelli innovativi, insomma, non ci faremo ancora una volta a mancare nulla. Tra qualche giorno sarà disponibile una landing page dove registrarti, ricordo l'evento sarà gratuito ma con obbligo di registrazione. A registrazione avvenuta riceverai un link che ti servirà per accedere poi alla piattaforma. Al momento non ti svelo più nulla ma ti prometto che continueremo ad aggiungere contenuti che via via, insomma, faranno sempre più luce a questo evento e quindi sveglieremo i volti, i temi che verranno trattati e quant'altro. Quindi l'invito è quello di restare sintonizzato e attento per non perdere nessun aggiornamento. A prestissimo!